Sette punti in tre gare per l'avellino griffato Carmine Gautieri a fare notizia e anche la tenuta difensiva dei Lupi, nonostante a Pagani Silvestri non abbia guidato la retroguardia per squalifica, non ci sarà con Bove neanche contro il Palermo, ma a far dormire sono i tranquilli al gauccio ci pensa lui, Francesco Forte, il portierone calabrese è tornato quello di una volta, sono tre i clean sheet di fila contro Fidelisandria, Latina e Paganese, l'estremo difensore erpino non ha subito reti, guadagno e lo costringe gli straordinari in chiusura della prima frazione, respinge due volte le conclusioni del bomber, poi si oppone al tiro di Tommasini dalla distanza e a quello ravvicinato di Diop, buonissima la sua prova ed è immacolato, altro top è sicuramente Oliver Kragl, dal suo arrivo in Irpini a un mese e mezzo fa, già due gol e due assist, tutti decisivi, a Pagani oltre la rete pennella un cross perfetto dalla bandierina per Ciancio, poi si mette in proprio sfruttando l'errore di Firenze e scarica in porta un sinistro mortifero, un missile terraria che non ha lasciato scampo a Baiocco, mi-ci-dia-le. A finire sul banco degli imputati, nessun flop dei calciatori ma la Lega DC, a differenza di un anno fa dove il Trapani fu subito escluso dal campionato, con il Catania non è stato attuato lo stesso metro di giudizio, anzi sin dall'inizio della stagione, un campionato sempre più tormentato per gli elefantini di Baldini, da oggi in poi ci sono altri dieci giorni di speranza, il Tribunale ha infatti comunicato di aver prorogato l'esercizio provvisorio fino al 17 marzo, in questo periodo verrà valutato l'ulteriore possibilità di liquidazione del ramo caratteristico di azienda calcistica del calcio Catania. Per la serie, le regole valgono per tutti? Diciamo di no!